Vittime del lavoro. Il Consiglio regionale in apertura di seduta d'aula ha dedicato uno speciale momento di ricordo per le 47 persone in Piemonte che nel 2019 hanno perso la vita sul posto di lavoro con un minuto di silenzio e la lettura dei nomi. La cerimonia ha seguito la settantesima giornata nazionale delle vittime di incidenti sul lavoro, domenica 11 ottobre. Anche quest'anno c'è stata la commemorazione dei 47 morti in ambito lavorativo, purtroppo sempre tanti, ma che serve al Consiglio e serve alla politica come monito per fare leggi sempre più stringenti e per cercare di tutelare la vita. Tutelando la vita dobbiamo anche tutelare i lavoratori e gli imprenditori che in emergenza Covid sono sempre stati presenti e hanno operato. La sicurezza di chi lavora è una priorità sociale ed è uno dei fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza, ha ribadito all'Asia. Il presidente ha anche ringraziato a nome dell'Assemblea per la loro partecipazione la dottoressa Vita Roccaromaniello, vicario della direzione regionale INAIL che ha fatto le veci del dottor Giovanni Asaro e l'ereggente territoriale di Torino dell'Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, Elio Balistreri, delegato dal presidente piemontese Silvio Olivero. Sono grato al Consiglio regionale per aver trattato il problema. Gli infortuni mortali sono in aumento, sono in diminuzione invece gli infortuni e tra l'altro le malattie professionali anche quelle sono in diminuzione. L'unica cosa che c'è da aggiungere è la malattia del Covid. Ci sono 303 morti in Italia e 54.000 infettati dal Covid-19.